Uno degli aspetti che nel 2021 ha suscitato maggiori dibattiti nell'ambito della pubblica amministrazione è stato certamente quello dello smart working. E se nel 2020 a prevalere era stata la sorpresa per la relativa facilità con la quale molte pubbliche amministrazioni sono riuscite a fronteggiare l'emergenza grazie al lavoro agile, nel 2022 hanno preso forza le preoccupazioni che un eccessivo, improprio, malgestito ricorso al lavoro agile, al lavoro da remoto potesse pregiudicare la produttività e il servizio ai cittadini. Da più parti inoltre è stata enfatizzata l'esigenza, l'istanza, che una ripresa del lavoro in presenza da parte del pubblico impiego contribuisse alla ripartenza dell'indotto economico, soprattutto di bar, ristoranti e trasporti particolarmente colpiti dalla pandemia. Il ministro della pubblica amministrazione ha preso posizione in questo dibattito, innanzitutto stabilendo il principio della prevalenza, cioè di un limite generalizzato del 49% per tutte le PA nel ricorso al lavoro da remoto e in secondo luogo definendo una serie di precise e pesanti condizionalità per accedere agli accordi di lavoro agile. A ottobre, inoltre, in controtendenza rispetto al settore privato, il ministro ha inteso dare un forte segnale decretando la fine del regime semplificato di emergenza. Ora, queste politiche hanno avuto alcune conseguenze che occorre considerare con attenzione. In primo luogo, il ricorso al lavoro agile nel pubblico impiego è stato pesantemente scoraggiato, con il passaggio dai quasi un milione e mezzo di smart worker d'inizio anno ai poco più di 850 mila dell'autunno. Questo ha avuto evidentemente effetti anche nel picco pandemico sulla congestione del traffico, sull'andamento dei contagi. In secondo luogo, si è dato un messaggio di sfiducia a molti lavoratori, che pure si erano impegnati nel lavoro da remoto, con effetti evidenti di perdita di engagement. Terzo elemento, si rischia così di pregiudicare l'immagine del pubblico impiego sul mercato dei talenti, proprio in un momento in cui la flessibilità rappresenta uno dei principali fattori di attrazione. Da ultimo, il rischio è che si ingeneri una confusione tra lo smart working come strumento di miglioramento organizzativo e orientamento alla performance e lavoro da remoto come pura concessione. C'è da augurarsi che con il nuovo anno, a partire dall'occasione della realizzazione dei piani integrati di attività e organizzazione, si possa ricominciare a guardare senza pregiudizi allo smart working, non solo come strumento di conciliazione o più di risposta all'emergenza, ma anche come un'occasione di miglioramento continuo e modernizzazione della pubblica amministrazione.